buongiorno signore e signori ragazzi e ragazzi mi chiamo marcello secco e registro giornalmente questi video sulle moto quindi se siete interessati iscrivetevi subito al canale attivate la campanella così sarete costantemente aggiornati sui video che faccio oggi voglio parlare di yamaka mt 10 del 2022 il motore della moto a quattro cilindri fronte marcia da una cilindrata di 998 cm3 i pistoni sono forgiati al trattamento sulle cani dei cilindri al trattamento le bielle sono in acciaio per aumentare l'inerzia la coppia ai medi regimi a una distribuzione bialbero la potenza di 165,9 cavalli a 11.500 giri al minuto mentre la coppia di 112 newton metro a 9.000 giri al minuto il cupolino bene visibile nell'immagine ha il doppio faro ed è fissato al telaio per liberare il manubrio del suo peso rendendo quindi questa moto una vera propria street fighter la ciclistica è formata da una sospensione kibbe con la forcella da 43 mm e il monomortizzatore posteriore completamente regolabile le ruote sono da 17 pollici anteriormente abbiamo un doppio disco ben visibile nell'immagine da 320 mm mentre il singolo posteriore è da 220 mm per quanto riguarda l'elettronica presenta la piattaforma inerziale imu con i controlli a partire da quello della trazione della bs cornering che si chiama bc bc brake control gli altri controlli sono il slide control l'antimpegnamento l'if la gestione del freno motore sui due livelli sono tutti regolabili in modo indipendente e comunque associati a quattro riding mode a b c d della più aggressiva quindi fino al rain per finire la capacità del serbatoio carburante di 17 litri metto il peso in ordine di marcia di 212 kg quindi una moto che si presenta molto gradevole alla vista vedete a me piacciono in particolare questi cerchi con questo bel colore a me piacciono poi naturalmente va a gusti ed è ovviamente una moto molto potente una moto per per chi è capace di andare in moto perché appunto ha una potenza veramente elevata e d'altronde anche piuttosto leggera con i suoi 221 kg per la potenza che è il motore bene quindi se vi è piaciuto mettete un like se non vi è piaciuto dislike come vi ho detto prima iscrivetevi al canale e attivate la campanella in modo da essere costantemente aggiornati ciao a tutti grazie e buona serata